Come si elabora una gioventù drammatica e dolorosa per vivere una vecchiaia consapevole e saggia? Questo è il titolo della conversazione pubblica che è stata organizzata presso l'auditorium del Museo di Voltella dall'Associazione Goffredo dei Banfi nell'ambito dei festeggiamenti per i 25 anni di questa fondamentale realtà nel panorama del volontariato triestino. Alcuni protagonisti importanti della cultura italiana sono stati intervistati dalla psicoterapeuta Ellen Brunner. Lo scrittore Boris Pachor, la testimone degli orrori di Auschwitz Liliana Segrile e giornalista Gad Lerner. Le iniziative di carattere culturale realizzate dalla De Banfield rientrano nell'azione di sensibilizzazione sui problemi dell'invecchiamento previste dallo Statuto dell'Associazione. Fondata nell'88 per volontà di Raffaello e Maria Luisa De Banfield, in memoria del padre Goffredo, con lo scopo principale di assistere a domicilio gli anziani noto sufficienti, l'Associazione rappresenta una realtà importante del volontariato locale. Basti pensare che la De Banfield nel 2012 ha assistito 1.300 persone, il 19% in più rispetto al 2011, un trend da alcuni anni sempre in crescita, un'opera costante sul territorio che necessita sempre di nuove forze da affiancare alla settantina di volontari attivi che operano già per l'Associazione. L'Associazione può contare complessivamente sul supporto di circa 600 soci.